Ma guarda un po' che cosa abbiamo appena trovato! Mmm, un'altra bella arma di New Vegas! Beh, la ringrazio, signor scheletro-astronauta! A qualcuno piace Borderlands? A me piace molto Borderlands! E se vi dicessi che ho ricominciato il gioco da zero, rifacendo tutto quanto fino a questo momento, solo per essere sicuro che nessuna moda andasse in conflitto con nessun'altra? Voi mi credereste? Beh, è così! Ho fatto un altro giro a Corvega e guarda un po' cosa ti ho trovato! Un Power Armor Frame da costruzione! Mmm, chissà, forse riuscirò a trovare un Armor giusta da mettergli! Visto che ho ucciso delle mantidi, quasi quasi questo, me lo creo! Ho bisogno di fibra ottica per fare una cosa, una cosa che non vi voglio ancora mostrare! Aspetta, se c'è qui il bramino... Carla! Carla! Sì? Hai bisogno di qualcosa? Sì, ho bisogno della fibra ottica, dimmi che ce l'hai! Ti prego, dimmi che ce l'hai, dimmi che ce l'hai! Fibra ottica e fibra ottica, yes! E quanto mi costano? 63! Tieni, te li lancio in faccia, tieni, è tutto! E ora è il momento di duplicarli! Buttiamo tutti quanti i materiali qua dentro, ecco a te! E li facciamo smaltire! Dai, vediamo! Perfetto! Siamo a due fibre ottiche, quindi mi prendo tutto, lasciamo giù la roba inutile ed è il momento di duplicarli! Butto giù tutto quello che devo duplicare, collego il controller perché per questa operazione faccio prima e... Quadrato cerchio, quadrato cerchio, quadrato cerchio, quadrato cerchio, ecco fatto! Quadrato cerchio, ecco qua! Con un po' di pratica... Tutto si può fare! Ehi, God's Word! Sì, signore? Non mi hai mai invitato a prendere il tè! Te lo sei dimenticato, vero? Certo che no, signore! Sto solo aspettando di trovare un buco nella mia agenda! Ok, continua con quello che stai facendo! Sembra che ti riesca a vedere! Dobbiamo andarci nel prima possibile! Cosa sono queste radiazioni? Cosa sono state queste radiazioni all'improvviso? Ecco fatto! Ho appena ricostruito il mio bagno! Questa è l'unica cosa che non cambio perché... Beh, ha troppi ricordi questo lavandino! Però almeno ho messo il cesso! Vediamo se funziona! Ah, certo che funziona! Certo che funziona! Non avremo l'acqua da bere, però almeno abbiamo l'acqua buona per pulirci! Tutta pulita e sistemata! Ma sta nevicando per caso? O sta piovendo cenere? In ogni caso penso che andrò a dormire! Questa è la mia stanza e non voglio che nessuno ci entri, capito? Porca troia, vi metto anche una porta! Pur di non farvi entrare, giuro! Peccato che non possa metterla! Siete fortunati! Una cosa tira l'altra e mi sono messo di nuovo a costruire ponteggi sopra le altre case! Però ho reso di nuovo casa mia, di nuovo agibile! Ho trovato anche questa bandiera, penso che ci stia bene col salotto! Ho messo la mia collezione di fumetti vicino al letto e le mie varie collezioni sopra il letto! E ho fatto questo piccolo spazio per le mie varie collezioni, tra cui le armi e i miei vecchi vestiti da cosplayer! Piper, ti dispiace, stavo parlando! Però penso che a questo vestito manchi un tocco giusto giusto personale! Giusto per renderlo perfetto! Ecco qua! Ora sì che è perfetto! Piper, per favore, vai via da lì! Qui! Ok! Dove è sparito Dogmeet? Vediamo come mi sta il tutto! Dove diavolo è finito Dogmeet? Oh, eccolo qua, è ritornato! Beh, che dire, che dire! La giacca di Cyberpunk ha sempre il suo effetto! Questo è in tuo onore, Johnny! Vediamo anche come mi sta la maschera, se riesco a trovarla! Ovviamente me la mette al posto degli occhiali e... Beh, che dire, con quegli occhi gialli faccio la mia porca figura! E visto che ci siamo, allora craftiamo anche un'altra arma! Thermal Katana, eccola qui! Guarda che bella! Carla, per essere una mercante, hai della roba veramente interessante comunque! Guarda un po'! Hai anche uno Scar, ma tu... Dove... Dove diavolo le trovi queste robe? Peccato che costi un po' troppo, perché se no te lo prenderei! Anche la Rhino! La Rhino... Sicuramente è un'ottima arma, ma per adesso dovrà aspettare un attimo! A me interesserebbe, Carla, che tu abbia una 44 Magnum, ma non è così! Per ora ti vendo tutta la roba inutile! Dovrei effettivamente mettere da parte un po' di tappi per fare il trucco dei tappi! Mmm... Non è una cattiva idea! Certo che andare in giro però con la... con la giacca dei samurai... Tanta roba! Prima di andarcene però vorrei riprendere un attimo quest'arma... E modificarla per bene, perché finalmente abbiamo trovato il teschio, ma ci manca Fabbro di livello 2! Mmm... Dannazione! Teniamocelo da parte allora il teschio! Vediamo quanto ci manca per salire di livello! Pochissimo! Potrei costruire ancora qualche stronzata per salire di livello, volendo! Ma forse è meglio iniziare ad andare avanti! Volevo vedere se Carla vendeva le munizioni per le armi di Borderlands! Ed effettivamente le vende, ma non quelle che mi servono! A me servono queste! Mmm... Carla! Cosa ve ne faccio di tre munizioni per il revolver? Dannazione a te! Tra l'altro ho modificato il Kabbalistic Fetish e... Devo dire... Fa la sua porca figura! E ho messo questa modifica in Ritual of Bluffthirst! Che praticamente riduce un po' il danno, ma ogni colpo dato ci fa ricaricare la vita! Non è male, anzi, secondo me può essere una buona arma! A questo gameplay voglio puntare moltissimo sulle armi da mischia! Certo, ovviamente darò molta attenzione anche alle armi da fuoco perché... Eh eh... Ci sarà molto da divertirsi, credetemi! Però le armi da mischia a questo giro... Voglio dargli una marcetta in più! E con la nostra arma uscita direttamente da Borderlands possiamo andare in missione! Finalmente! Dirigiamoci dal signor Valentine! Minaccia meccanica, ascolta la richiesta di soccorso della carovana! Hm, ok! Ehi, che ne dici se ti presento il mio informatore di fiducia? Takashi, grazie per avermi concesso un incontro! Salve! Ma viaggiamo insieme da un po'! Mi spiace, Blue, ti ho scoperto! Takashi mi ha detto tutto! La tuorete di bugie è crollata! Scommetto che Blue non è neanche il tuo nome! Infatti non lo è, Piper! Ehi, signora! Quell'intervista con Piper vende come il pane! Ecco la tua copia a omaggio! Ah, grazie! Beh, ci mancava anche che dovevo pagarla, no? Ehi, Arturo! Sai, un fucile da combattimento è un'ottima assicurazione contro i predoni! Ma ho parecchie alternative! Eh, è proprio quelle alternative che io voglio vedere! Allora, hai queste belle armi leggendarie che per ora costano tanto! A me serve proprio una 44 Magnum! Bravo, Arturo! Questo che cavolo è? È un minigun in miniatura, per caso? Sì, è un minigun in miniatura! Che figata! Bravo, Arturo! E oltre a questo mi servirebbero anche delle munizioni che ovviamente non hai! E nonostante siamo appena stati a casa, e lo so, dobbiamo tornarci due secondi al volo! Ehi, eri sul giornale, vero? Hai 200 anni! Li porti bene, eh? Eh, lo so, grazie! Sono venuto qui solo per creare una nuova arma! Ah, 2,44 rimosse e 2,44 guadagnate! Oh, che figata! Che figata! Tu dovresti andare a fare la sicurezza, lo sai, vero? Non dovresti gironzolare! Guarda che ti seguo, eh! Finché non vai là alla tua postazione, io ti seguo ora! Vi do un tetto sopra la testa, vi faccio mangiare, è questo ringraziamento! Non fai neanche il tuo lavoro, bravo! Ho preso il conto delle vesciche! Te le faccio venire io le vesciche se non ti muovi! E non t'azzardare a muoverti da lì, eh! Sicuramente un cancello del genere neanche un dead club può superarlo! L'unica pecca di quest'arma ovviamente è la terza persona, ma in prima persona, wow! Proviamo a migliorarle, vediamo se ci riusciamo! Possiamo renderle più grosse, più potenti, più zoomate e ovviamente leggendarie! Non mi dispiacerebbe o renderle infinite, proprio west style, doppio colpo non sarebbe male, ma esplosivo! Esplosivo secondo me con un'arma del genere ci facciamo, ma proprio danni, danni, danni! Ah e posso anche customizzarle! Hm, interessante! La cabalistic dovrei farne una seconda versione e magari una renderla così per fare gli attacchi stealth e un'altra così per fare gli attacchi belli pesanti! E ora possiamo effettivamente tornare! Sindaco McDonagh ce l'ha sempre avuta con i miei, ma non ho mai capito perché! Eh, chi lo sa! È un tipo fastidioso! Signor Valentine, è in casa? Lo dicevo che la fortuna non dura per sempre! Eh, salve! Buongiorno! Qualcosa non va? Un'altra persona in cerca di riparo dalla pioggia? Sei in ritardo, l'ufficio è chiuso! No, tranquilla, non sono una barbona! È una cosa importante! So che dovete essere impegnati, ma non vi ruberò troppo tempo! È importante! Hai ragione, mi dispiace! Non volevo essere scortese, solo che il nostro detective è scomparso! Che fortuna! In che guaio è andato a cacciarsi stavolta! Con la fortuna che abbiamo è morto, Piper! Sai dove potrebbe essere? Hai idea di dove potrei trovarlo? È scomparso mentre lavorava un caso! La banda di Malone lo smilzo aveva rapito una ragazza! E lui aveva individuato il loro culo alla stazione... Malone lo smilzo! Mi so tanto di italiano! ...che utilizzano come base! Gliel'ho detto a Nick che era una trappola! Ma lui mi ha sorriso ed è uscito lo stesso! Sicuramente è un grande detective! Lo troverò! Hai la mia parola! Grazie! Dovresti riconoscere facilmente, Nick! Indossa sempre un vecchio caffè! Sì, sarà facilissimo riconoscerlo! Sarà sicuramente facile! Eh, lo so, Piper! È una mia specialità! In genere sono loro a trovare me! Ehi, non posso certo giudicarti! Sinceramente è bello non essere da sola per una volta! No, tranquilla! Non ti lascerò da sola! Eh, lo so! Posso visitarla? Hai vissuto una vita interessante! Senza dubbio! Ma sinceramente ora che sono qui con te, mi sembra solo l'inizio! Oh, Piper! Piper! Tu e io qua fuori a rischiare la pelle per dare una speranza alla gente del Commonwealth! Non per l'odi, ricompense o gloria! Soltanto perché è giusto! Volevo solo farti sapere che sono molto felice di essere qui con te! Beh, anche io sono molto felice! Non potrebbe essere altrimenti! Mi piace averti vicino! Lo so, Piper! Lo so benissimo! Allora, che ne dici di andare? Certo! Sei tu che mi hai fermato! E questo cos'è? Alleato misterioso! Sembra qualcosa di interessante! Mystery Transmission Recording! Una vecchia trasmissione di Diamond City Radio! Ma che invita la gente a viaggiare alla vecchia stazione a sud! Hmm, interessante! Ci farò un salto! Bene! L'unico uomo che poteva aiutarmi alla fine è stato rapito e io sono appunto capo! E ora sono pure incastrato! Ah, giusto! Siamo anche saliti di livello! Che cos'è che mi serviva? Fabbro? Sì! Facciamo Fabbro! E visto che abbiamo appena preso questo talento, sapete cosa vuol dire? Si torna di nuovo a casa! Le luci non funzionano! Mi sa che devo sistemare i cablaggi! Vabbè, non importa! Abbiamo il Pip-Boy! Ora che abbiamo tutti i pezzi, finalmente, possiamo modificare quest'arma! The Bat from Hell! Guarda com'è bella ora! Oh, sì! Mi piace! E ora fa anche più danno della Buzz Axe! Oh, non vedevo l'ora di usarla, quest'arma! Non vedevo proprio l'ora! Un'altra volta che mi appioppi roba, Preston! Con te finisce sempre così! Ogni tanto fa bene cambiare la propria maschera, comunque! Soprattutto perché quella di Fox sta benissimo con questo outfit! È il momento di dirigerci verso la destinazione! Dogmeet ha trovato qualcosa! Che cosa hai trovato? Bello! Che cosa hai trovato, Dogmeet? Mi vuoi parlare o cosa? Effettivamente io che dico un cane di parlarmi, questa è nuova! Sono sicuro che stia ringhiando ai super mutanti a questo punto! Qualcuno ha gridato aiuto! Ehi! Chi ha gridato? Non mi ha bisogno d'aiuto! Signora? Dov'è? Presto! È lì dentro! Ti prego, aiuto! Sì? Mi dica! È palesemente una trappola questa, però va bene! Diamogli falsa speranza di potermi fregare! È lì dietro! Presto! È lì dietro dove, signora? Oh, ma pensa un po'! Oh, si comincia! Uno la paghi a racconto! Aspetta! Che dolore! Mamma mia! Che male! Aspetta, aspetta, aspetta! Il cane! Bastardo! Maledetto schifoso! Lascia stare il mio cane! Che cosa avevi, tra l'altro? Oh, il primo ha citato minigun portatile! Grazie! Beh, tu sei stato a poco furba, te lo devo dire! Quest'arma è meglio conservarla e usarla solo nei momenti in cui ci serve! Abbiamo poche munizioni! E tra l'altro, manco a farlo apposta, mi serviva venire qui! Ecco te! Miscella il verde! Grazie! Beh, grazie di aver cercato di fregarmi, allora! Bingo! Ah! Un'altra rivista! Ottimo! Venire qua dentro è stata un'ottima idea! Dicevamo! Continua! Dogmeat! Hai rotto le palle! Dove sei? Non ti vedo! Ah, eccolo! Dai! Va bene! Portami a questo oggetto! Continuiamo la nostra scampagnata! Era questo che hai trovato? Grazie! Che è successo? Che cosa sta succedendo da queste parti? Ah! Ottimo! Aia! Spacco la faccia a tutti quanti! Maledetti! Oh! Stug Slayer! Perfetto! Infligge 50% di danno agli animali! Bello! Ed è un fucile a pompa! Stug Slayer 12 GA! Perfetto! Benvenuto in squadra, allora! Dogmeat ha trovato qualcosa! Sai che novità, bel cagnolone! Quando mai non trovi qualcosa, tu? Prendi bene la... Qualcosa la blocca dall'altro lato! Devo trovare un modo per entrare, allora! Ah, è un gecko! Porca troia, vieni qua che ti sparo! Aspetta! Dio mio, la cattiveria in questa cosa! Devo trovare un modo per entrare qua dentro! Un po' di platforming e via! Ecco come si entra! Ora devo trovare... Un modo giusto per entrare! Facendo attenzione e continuando a fare platforming... Eccoci qua! Siamo arrivati alla meta! Dove sei, maledetto albino? Oh, eccolo! La miseria! Io pure non avrei voluto sparare in faccia a un gecko! E cosa si nasconde qua dentro? Nulla di interessante! Forse ho esagerato con un fucile a pompa per uno scherapaggio? Può essere! E tu? Tu da dove sei saltato fuori? Oh, beh! Almeno abbiamo trovato un premio! Questo posto mi dà i brividi! Hai proprio ragione! Anche perché ci sono dei pupazzi che stanno facendo un'operazione, quindi... È forse meglio uscire da qui! Oh! Due nuca cola quantum! Fantastico! È una bella giornata per essere vivi allora! Buongiorno! Madonna! Che cattiveria incommensurabile! Che cattiveria! Che è successo? Ma porca miseria! Ancora sti vampiri! Cos'è stato? Ehi, 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 ehi! Calmi tutti! Quello è Geralt per caso? Atom guard? What? Aspetta! Con calma! Che sta succedendo qui? Che diavolo sta succedendo? Fermi tutti! Maledetti vampiri! No! E no! Ma perché mi stai attaccando? Eh, lo... Non ti ho attaccato! Maledetto! Eh, io non mica volevo attaccarti! Credo di aver attaccato l'altro che sbaglio io! Studi di cardiomansi! Ah, ma posso aprirlo veramente? Il tomo degli Atom Guard! E non posso aprirlo! Cose strane succedono nel Commonwealth! E questo posto? Che cos'è? Che sta succedendo? Altri vampiri? Aiuto! Aspetta che... No! Dov'è? Dov'è il vampiro? Non lo vedo! No! Dov'è il vampiro? Eccolo qui! Io non vorrei... Non vorrei attaccare perché ho paura di... Non voglio attaccare perché ho paura di colpire quelli sbagliati! Cosa sta succedendo? Ho paura di colpire quelli sbagliati! Nessuno resiste ai fedeli! Oh! Beh, buongiorno a voi, eh! Geralt, salve! Alla fine siamo tutti i figli dell'Atom. Eh beh, certo, c'ha ragione! D'altronde vi chiamate Atom Guard per nulla, no? È una cattedrale! Eh, salve! Aspetta! Non era quello che certo mi aspettavo! Aspetta! C'è qualcosa! Eh, ma va! Chi l'avrebbe mai detto, Preston? Minchia! Quello c'ha un minigun! E noi siamo armati solo di fucile! Fantastico! Bene! Allora, con calma! Con calma che dobbiamo proprio contargli i colpi qua! Dai! Le finirai i proiettili prima o poi, eh! I proiettili prima o poi ti finiscono! Raffiche brevi! Ma funzionanti! Come dice Preston! Aspetta, devo continuare a curarmi e sto finendo gli steampack! Credo che sia morto! Perfetto, quello col minigun è andato! E qui sull'altare ho trovato un'altra rivista! Infliggi 5% contro i super mutanti! Ottimo! Cos'è? Cos'è stato sto tremolio incredibile? Che cazzo sta succedendo? Cos'è sto rumore di fate? Uh! Labrix Comics! Venivo spesso qui a comprare i miei fumetti! Gli inarrestabili! Oh! Lo leggeva anche mio marito quello! Ottieni permanentemente un'unica probabilità di non subire danni da un attacco! L'un per cento! Wow! Però, beh, sempre meglio di nulla! Oh! Sento rumori... Che non vorrei sentire! Dai! Forza! Volete mangiarmi? Vi aspetto! Uh! Un altro fumetto! La fantoma! E qui che cosa abbiamo? Un'ascia! Ma pensa un po'! Facco la faccia a tutti quanti ora! Penso di riuscire ad aprirla! Ecco fatto! Nulla di troppo difficile! E ora lascia di grognacchi il barbaro! È mia! Direi che è il momento di usarla! Era leggendario! Ma pensa un po'! Ed è un braccio sintetico! Riduce i danni inflitti dai super mutanti! Vediamo com'è! Le statistiche comunque sono buone! Va bene, lo metto! Ma guarda un po' cos'altro ho trovato! Un altro prompt! Fa vedere! All the atom fire! Abbiamo trovato anche un'altra magia! Però abbiamo trovato la master sword! Certo non è potentissima però! Uh! Benvenuta a bordo! Proviamola subito contro i nuovi nemici! Dove siete? Vieni! Beh, beh! Un colpo morto comunque lo facciamo! Il suo sporco lavoro lo fa! Fa decisamente il suo lavoro! Distruggere il male! Dove siete? Maledetti! Aspetta! Che mi occupo di quello brutto e cattivo! Ecco fatto! Non lo sanno mai quando è il momento di smettere! No! Non lo sanno mai! Uh! Questo cos'è? Costume da silver shroud! Ora è mio! A quanto pare abbiamo scoperto un po' se diretti di silver shroud! Sì! Direi proprio di sì! E ho anche trovato il costume di Grognac il Barbaro! Uh! Ma oggi è una bella giornata! Piena di opportunità come direbbe Marcus! E posso metterlo? Sì! Ma mi toglie che cosa? Che cosa mi toglie? Mmm! Mi toglie i pantaloni! Vabbè! Ho ancora la mia giacca! Quindi! Diciamo che non è una gran perdita! E qui che cosa hai trovato? Dei tileset mancanti! Ottimo! E una rivista! Infliggi il 5% di danno con il blaster alieno! Mmm! Interessante! Guardiamo al lato positivo! Nessuno può avvicinarsi senza farsi notare! Ebbè certo! Perché siamo in alto! Giusto no? Che gioia! Neanche uscito dalla fumetteria e già mi sparano! Cosa credi di fare? Forza! Uccidervi! Ecco cosa! Oh! Uno leggendario! Vieni qua che ti... Ti spacco la faccia! Eh! Sì! Subite perdite! Come? Ti va di giocare eh! E a voi? Non sai fare di meglio? Credo di non averne preso neanche uno! Che cacchio è successo? Mi ha... Mi ha esplosa la granata in faccia! Probabilmente l'ha colpita mentre l'ho lanciata! È stato bravo! È stato furbo il tizio! Bel colpo! Aspetta che... Ecco fatto! Oh! Attenzione che ce n'è! Uno con il minigun là sopra! Non riesco a colpirlo! È troppo in alto! Ci vuole troppo per caricarle queste armi! Minchia minchia fa male questo tizio! Questo tizio fa... Molto... Male! Tu no invece! Tu sei una pippa! Se riuscissi almeno a colpirlo... O a colpirgli almeno l'arma o il braccio! Aspetta aspetta che gli faccio un critico! Che culo! Che culo! Che culo! Che culo! Starbuck! Ecco fatto! Adesso vengo e vi spacco tutti la faccia! Questa faceva 80 e passa di danno! Prima con il 20% in più quanto fai? Il 122! Tanta roba! Tra l'altro abbiamo di nuovo le magie vampiriche! Quasi quasi... Faccio questa... E mi metto il cabalistic per provare il risucchio vitale! Dove vi nascondete? Maledetti! No! Cazzo no! Eh no cazzo no! È andata meglio del... Te lo dico io! Il risucchio vitale è veramente infimo! Non ha succhiato via nulla! E il minigun è qua accanto! Devo trovare il modo per salire! Fatto! È stato facile trovare il modo per salire! Vindicator! Non era neanche un minigun normale! Era un minigun ancora più grosso! Ecco perché ci faceva così tanto danno! Tu sì che sapevi come colpire! Credimi! E prima che ci interrompessero dicevamo... Blu! Stiamo entrando nel Boston Common! Non si torna indietro da qui! Eh! C'hai ragione! Anche perché so benissimo cosa c'è lì! So benissimo cosa c'è lì! E in questo momento... Non voglio affrontarlo! Ma proprio no! No! Assolutamente! Signor Valentine, sto venendo a salvarla! Aspett! Aspett! Grazie a tutti.